Nelle isole Ioni e lungo la costa continentale fino all'estremità sud del Peloponneso, le condizioni medio in estate sono caratterizzate da brezze termiche, che in condizioni di alta pressione hanno sempre la stessa direzione e pressoché gli stessi orari. Di mattina, dopo mezzogiorno, la brezza, spesso forte, soffia da nord-nord-ovest, raggiunge la sua massima intensità intorno alle 18 per poi abbonacciare poco dopo il tramonto. Capita abbastanza spesso, soprattutto nei canali tra le isole e a sud di Zante, che la brezza raggiunga e superi i 20 nodi. Basta programmare la rotta in modo da avere sempre 20 portanti e scegliero opportunamente gli ormeggi per vivere veleggiate fantastiche in un mare blu cobalto incredibilmente trasparente. Verso mezzanotte avviene l'inversione termica e soffia una leggera brezza d'allevante, mai superiore ai 10 nodi, che dura fino a poco prima dell'alba. Un'altra piacevole sorpresa per i neofiti della Grecia è la bassa umidità, che di giorno regalerà cieli azzurri da alta montagna e la sera cene in pozzetto senza umidità in coperta.